Buongiorno, benvenuti nella segna stampa di oggi 29 aprile, sabato, alla faccia di quelli che dicono che non mi sveglio presto la mattina, diciamo così e che non faccio le rassegne di mattina. Oggi alle 9.51 possiamo iniziare a parlare di quello che c'è scritto sui giornali e i temi sono abbastanza univoci per tutti quanti i giornali. Quello fondamentale riguarda il procuratore di Catania Zuccaro che voi avrete visto nell'intervista che gli abbiamo realizzato, forse per primi, a Matrix due settimane fa e poi una settimana fa in diretta. Zuccaro è l'unico procuratore della Repubblica che sembra che non possa parlare in televisione e che non possa mettere la faccia su una sua inchiesta con tutti quanti le prudenze del caso. Io ricordo cosa succede in altre inchieste dove i procuratori fanno le conferenze stampa, non si può dire ma danno tutte le carte ai giornalisti, non si può dire ma danno tutte le spifferate a tutti quanti. Questo procuratore si è limitato a dire semplicemente che c'è una possibile collusione tra alcune ONG, non tutte, e degli scafisti. Sulla forma di questa cosa dice in realtà, l'ha detto chiaramente a Matrix ma c'è scritto in tutti quanti i resoconti oggi dei giornali, ci sono degli elementi dal giornale al Libero anche a Repubblica, ci sono delle intercettazioni radio tra gli scafisti e le ONG, queste intercettazioni radio in realtà le ha fatti i servizi segreti e dice chiaramente, lo ha detto anche da noi il procuratore, siccome queste intercettazioni non sono state fatte dalla polizia giudiziaria, lo scrive anche Travaglio oggi sul fatto, non possono essere utilizzate come prova nei processi, dice datemi più mezzi perché qui il rischio è enorme. Ma cosa succede? Visto che ha fatto queste esternazioni, 3-4 esternazioni in televisione, non 500, non come il presidente dell'ANM che ha detto che siamo tutti quanti colpevoli in fondo in fondo, siamo tutti colpevoli. Lui dice forse c'è un sospetto sulle ONG, dice Zuccaro, e c'ha degli elementi per dirlo, e fa un'inchiesta conoscitiva. Il presidente dell'ANM invece ha detto che siamo tutti quanti colpevoli, noi siamo tutti quanti colpevoli senza prove, mentre il procuratore che indaga dice che forse alcune ONG, visto gli indizi, sono da indagare, non di più, ebbene il CSM apre un fascicolo contro di lui. Chi lo fa aprire al fascicolo contro Zuccaro? Un deputato, ex deputato del PD, ex sottosegretario di Letta e di Renzi, e che oggi si trova a fare vicepresidente del CSM, Legnini. Guarda caso, Legnini, lo sapete che all'interno del CSM ci sono anche i membri laici che sono eletti dal Parlamento, quindi c'è quello di Forza Italia, quello dell'Udc, quello dei Grillini e quello della PD. Non mi scandalizza, l'ha voluto la Costituzione, fa parte del senso anche importante della questione, c'è che la politica è tutto sommato a uno strumento, una camera di compensazione per capire cosa avviene nella legislatura, ma l'atteggiamento di Legnini è imbarazzante semplicemente perché sembra banalmente una cinghia di trasmissione, quello che sta avvenendo oggi nel CSM, delle forze politiche. Legnini PD contro il procuratore che dice attenzione alle ONG, esattamente dopo che Orlando, ministro del PD, Minniti, ministro degli interni l'hanno sgridato, il CSM parte, e dall'altra tra i membri laici di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle all'interno del CSM, invece lo difendono, ci sta, ma si porta la polemica politica dal Parlamento al CSM, deve essere quello il luogo per farlo? Forse no. Tra l'altro c'è un'altra piccola cosa che mi viene da chiedere al signor Legnini, oggi c'è, al deputato Legnini, oggi vicepresidente del CSM, oggi c'è forse in una ricostruzione del Corriere della Sera, e cioè è la seguente, ma è lo stesso CSM che ha nominato Zuccaro, cioè l'attuale procuratore capo a Catania un anno fa, cioè un anno fa lo nominano a Catania, ci spiegano che è il migliore per Catania e dopo un anno gli fanno Legnini, vicepresidente del CSM, gli fa un mazzo così, forse dovremmo fare un'indagine sul CSM, le scelte che fa dei procuratori se avessero ragione nel contestare colui che loro stessi hanno nominato un anno fa, o no? Vabbè, l'unità delicata, si capisce qual è la posizione dell'unità perché è quella del CSM, ha una foto in prima pagina in cui si vede un morto, un morto sulla riva e il titolo è Lui non ha incontrato le ONG, si vergognino quelli dell'unità, come quelli dell'unità diraggono a noi che siamo invece per l'idea che le ONG devono fare il loro mestiere ma non a 12 miglia dalla costa libica, utilizzare un morto per difendere le ONG è una cosa disgustosa, disgustosa come utilizzare, guardatevi la copertina dell'unità ed è se l'avesse fatto un giornale di destra, se l'avessi fatto io, si sarebbero tutti quanti no? Oddio che cosa fanno? Se l'avessi fatto Cruciani sulla radio del sole 24 ore, ma Cruciani cosa stai dicendo? No, se lo fa l'unità di mettere un morto in prima pagina va tutto bene, va bene? Va bene se lo mette lui, viva Cruciani, abbasso l'unità, va bene? E anche abbasso i parrucconi che fanno sempre i fenomeni quando le cose scorrette vengono detti da, non da quelli di sinistra. Benissimo, no non era uno che prendeva il sole, si vede proprio che era un morto. Avvenire e Osservatore Romano, ieri si sono presi un po' di mira perché l'Osservatore Romano diceva, ve lo ricordate, buco nell'acqua, ponte nell'acqua, non mi ricordo, prendeva in giro quelli che facevano, parlavano dell'ONG e l'Osservatore Romano invece crede che ci sia qualche cosa su queste ONG e su questa immigrazione. Oggi il fatto le pizzica ed è l'apertura in prima pagina sui cattolici che si scannano tra di loro ed è l'apertura in prima pagina del fatto. Secondo elemento che vi vorrei segnalare mentre noi stiamo qua a farci CSM, Zuccaro, ONG e non ONG, cosa succede nelle nostre province? Basta sfogliare tutti i giorni i nostri giornali di provincia, oggi sapete l'apertura del Corriere Alto Adige, non sto parlando del Corriere di Lampedusa o della Sicilia, Alto Adige, l'apertura del Corriere Alto Adige è Maxi Rissa arrestati i 15 profughi. Cari ONG, vi voglio spiegare che cosa facevano questi 15 profughi in Alto Adige, in una delle piazze centrali. facevano, lottavano, si menavano perché pioveva ieri e si menavano per avere il posto migliore sotto ai portici, cioè noi li salviamo, facciamo i fenomeni, il direttore dell'Avvenire è tutto contento, dice le ONG sono perfette eccetera, nel frattempo stanno in Alto Adige, non in Sicilia, non in Calabria, non in Puglia, non in Campania, sono in Alto Adige e questi profughi che noi abbiamo salvato si ammazzano di botte all'interno delle nostre città per trovare un rifugio dalla pioggia. Vi rendete conto che salvare il mare non vuol dire assolutamente nulla, cioè l'inizio di un nuovo calvario ed è soltanto un pulirsi la coscienza del politicamente corretto in cui ci troviamo oggi? Andiamo avanti. Amazon, Amazon, oggi tutti i giornali, Italia Oggi, il Sole 24 Ore, tutti i giornali parlano dell'accertamento della Guardia di Finanza che avrebbe accusato, accuserebbe con un verbale Amazon che tutti quanti voi conoscete di avere vaso imposte per 130 milioni. Nel dettaglio dal 2001 al 2015 avrebbe vaso 85 milioni di imposta sulle persone giuridiche, poi mi sembra che non avrebbe pagato 35 milioni di IRS, come si arriva ai 130 milioni non è molto chiaro da capire, il verbale non ce l'ho in mano, l'unica cosa che mi è divertita è effettivamente l'associazione che fanno sulla verità e in cui dicono, beh scusatemi ma Amazon che ha i vaso, secondo la Guardia di Finanza insieme ad Apple e Google che hanno fatto la stessa cosa e che hanno patteggiato sostanzialmente i conti del fisco, è la stessa Amazon il cui vicepresidente mondiale è stato nominato a Palazzo Chigi come consulente per l'agenda digitale, no perché va bene tutto quanto ma voi mi dovete spiegare, mentre Legnini si occupa dell'ONG, quando lui era sottosegretario del governo Renzi, il governo Renzi nominava come consulente per l'agenda digitale a Palazzo Chigi, il vicepresidente della società che commette evasione fiscale in Italia, adesso va tutto bene, questo non lo scrive così direttamente, la verità, fatemelo dire a me, insomma c'è qualche cosa che non va, Legnini occupiamoci anche di questo, ma dico certo tu adesso fai parte del CSM, lei fa parte del CSM e quindi di questo non se ne può occupare, però insomma io sono piuttosto intrigato dal fatto che il modello Amazon sia Palazzo Chigi, che è un modello di grande successo, ma dobbiamo metterlo d'accordo con la guardia di finanza che lo considera un modello di evasori. Per l'Alitalia due notizie, una del foglio che è interessante come analisi che dice che il modello è quello dell'ILVA, cioè sostanzialmente prendere un'azienda privata e renderla pubblica più o meno, ma la cosa più interessante è quella di Dimito sul Messaggero che è un giornalista che si occupa di finanza, molto dentro le banche che dice che in realtà una volta che vengono nominati i commissari si procederà subito alla vendita, non ci credo ma forse è così. Ferrara, molto bello il pezzo oggi sul foglio perché non è un estimatore della Le Pen, tutt'altro è un grande estimatore di Macron, ma analizza con lucidità i discorsi della signora Le Pen e dice che i discorsi della Le Pen sono anima e cuore, colpiscono, sono dei discorsi mozzafiato, per questo motivo non datela per morta alle elezioni. Lo dice da fan di Macron, ma lo dice in maniera anche per me oggi comprensibile. Ultimo pezzo riguarda Mascheroni che dice una cosa che io sottoscrivo in pieno sul giornale. Grillo ieri ha detto in sala ci sono dei giornalisti lì che fanno i loro appunti, guardateli in faccia e ricordatevi di loro. Ecco, io guardo in faccia Grillo e dico che è uno stronzo, va bene? Quando fa così è uno stronzo, io non penso che per colpa sua abbiamo perso posizioni nella libertà di stampa italiana, ma io lo considero una merda. Uno che pensa che dei lavoratori come sono i giornalisti che sono costretti a seguire una merda come Grillo che li prende pure in giro da sempre, a me fa schifo questo modo di fare di Grillo. È lo stesso modo per cui i terroristi e il politicamente corretto ce la prendeva con i giornalisti, noi abbiamo mille difetti e questa zuppa, come voi sapete, è l'inno ai nostri difetti e alle nostre superficialità, ma non me lo faccio dire da Grillo. Grillo è un movimento politico, facesse quello che vuole, ma come dice giustamente Mascheroni, caro Grillo, ma la tua faccia pensi che sia intelligente? La sua è una faccia orrenda quando prende di mira giornalisti che fanno il loro lavoro, prendono gli appunti nel loro miseria quotidiana, perché è una miseria quotidiana quella di noi giornalisti di dover essere pagati e obbligati a seguire un guitto che cambia un giorno sì e un giorno no l'idea, cambia l'idea sui computer che prima facevano schifo e poi diventa internet, cambia l'idea sui vaccini che prima facevano schifo ed erano come il gratta e vinci e poi diventano… ecco, noi obbligati a seguire Grillo ci facciamo pena, è vero, ci facciamo pena, ma che ce lo dica lui quel guitto là non mi sta bene, quando insulta i giornalisti si troverà sempre dalla parte sbagliata, perché lo fa male, perché lo fa male, questi poveracci che seguirono ieri Grillo hanno tutta la mia solidarietà. un abbraccio e ci vediamo domani, ciao!